Dopo l'addio al dating show e a Salatano, Aurora si era detta certa del fatto che se non fosse andata via sarebbe stata sicuramente lei la scelta e non Soraya Ceruti, che ancora oggi è la fidanzata del Gieffino. Oggi, pur sapendo che è attualmente fidanzato con la sua ex rivale, la Colombo fa un chiaro appello ad Alfonso Signorini, che potrebbe scuotere sicuramente le dinamiche della casa di Cinecittà. I telespettatori hanno visto come l'arrivo di Nicolin Corvai abbia creato problemi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dunque. Signorini potrebbe davvero ascoltare la richiesta di Aurora? Al momento? Sembra di no. A meno che gli autori non vedano da parte di Luca un eventuale interesse su ciò che ha da dirgli la sua ex corteggiatrice. Ma visto il forte sentimento che lo lega Soraya, attualmente sembra una possibilità abbastanza lì. Cosa chiede oggi Aurora Colombo di Uedì? In una lunga intervista su Novella 2000, l'ex corteggiatrice ammette che mesi fa non si sentiva pronta a viversi una storia d'amore con Luca Salatino fuori dal programma. Va precisato, però, che non è detto che l'ex tronista avrebbe scelto lei. Comunque lei ne è convinta. Ora racconta che, quando si trovava alla corte di Luca, era da poco uscita da, una relazione abbastanza burrasca. Pertanto, il suo scopo era quello di, evitare un altro disastro. Oggi Aurora vede Salatino al GF VIP 7, sotto un altro punto di vista. Fa presente, infatti, che nella casa di Cinecittà, le persone si conoscono meglio perché esce fuori il loro vero. Invece, a Uedì c'era poco tempo per conoscersi. Nel reality ha visto, una persona totalmente diversa. Tanto che oggi si sente addirittura in colpa. In particolare, a farle cambiare idea è stato il fatto che Luca si sia aperto su determinate dinamiche. Come la malattia della mamma, ha dimostrato di essere molto legato alla famiglia. Non solo, crede che in tv l'ex tronista trasmetta, tanta positività. A questo punto, Aurora Colombo ammette che vorrebbe rivederlo. Perché le è dispiaciuto. Non sapere come sarebbe stata una nostra possibile relazione. Me ne sono andata da uomini e donne senza riflettere e me ne rammarico. Durante le registrazioni non abbiamo la possibilità di incontrarci tra di noi. È vietato dalla produzione. Quindi non ho potuto nemmeno parlargli e spiegargli come stavano veramente le cose.